Nuova intervista a Manila Nazzaro a Verissimo. Questa volta la bionda showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin insieme all'amica ed ex concorrente del grande fratello VIP Miriana Trevisan. Le due hanno parlato a lungo della loro amicizia, che si è rafforzata molto nella casa più spiata d'Italia durante la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra un aneddoto e l'altro la Nazzaro è tornata a parlare di due ex colleghe della Rai, Adriana Volpe e Caterina Balivo. Il caso Adriana Volpe con la Volpe Manila Nazzaro ha avuto qualche problema anni fa, quando su Rai 2 Adriana ha preso il posto dell'ex Miss Italia alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia dopo la lite con Giancarlo Magalli ai Fatti Vostri. Una sostituzione inaspettata che ha ferito parecchio la Nazzaro, certa di una sua riconferma dato l'ottimo lavoro svolto. Più volte si è dunque sussurrato di rivalità tra le due ma in realtà le dirette interessate hanno sempre avuto ottimi rapporti. Tempi passati la stampa ci aveva messo contro e invece abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche, gli scontri. Ci siamo riconosciute in tantissime cose. Adriana al GF VIP è stata una spalla, un punto di forza per me. Voglio ringraziarla per l'affetto, la stima, per non aver mai creato polemiche inutili e aver sempre creduto nella persona che sono. Manila Nazzaro ha aggiunto nel programma di Canale 5. Non ci siamo parlate per molto tempo fino a quando lei non ha voluto parlarmi. Lei è sempre così promotrice di questo dialogo tra donne. È davvero una donna con la D maiuscola? La D maiuscola è stata una donna con la D maiuscola. La D maiuscola è stata una donna con la D maiuscola. la D maiuscola è stata una donna con la D maiuscola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.